amiche amici di rossini tv benvenuti benvenuti nei nostri studi questa sera abbiamo un ospite che si chiama samuele andreatini buonasera samuel buonasera lei a tutti gli spettatori samuele andreatini è il responsabile per la cisl per la provincia di pesaro urbino dell'ufficio contratti e vertenze la cisl che consta pensati di circa 200.000 iscritti nella nostra regione facevamo prima i conti quindi praticamente una persona su dieci quindi un'organizzazione sindacale davvero molto molto importante che racchiude tantissime persone andreatini di cosa si occupa esattamente l'ufficio proprio di assistenza contratti e vertenze l'ufficio contratti e vertenze è un servizio della cisl svolto da operatori sindacali esperti in materia di diritto del lavoro che svolgono un'importante funzione di ascolto e di risposta ai bisogni dei lavoratori naturalmente questa assistenza ha prevalentemente a riferimento la normativa di settore quella del lavoro e le sue continue evoluzioni gran parte delle quali sono contenute nei contratti collettivi di lavoro il nostro compito è quello di far comprendere ai lavoratori di quali di quali siano di quale sia la loro posizione lavorativa di quali siano i loro diritti e come farli valere nei confronti del datore di lavoro in tutti i casi in cui questi non venissero rispettati la nostra assistenza infatti non si limita semplicemente a dare informazioni o consulenza ma si prolunga si estende in un intervento fattivo nei confronti in tutte quelle situazioni che danneggiano il lavoratore nel coro nell'ambiente di lavoro e questi le voglia far valere nei confronti del datore di lavoro aprendo un'avvertenza in tutti questi casi noi accompagniamo il lavoratore in tutti quei passaggi e in tutti quei servizi o comunque quegli strumenti che vengono messi comunque a disposizione dalla legge dal contratto collettivo per ottenere l'adempimento dell'obbligazione contrattuale o comunque un ripristino diciamo di una gestione corretta del rapporto di lavoro si percepisce tanta passione questa passione pensate parte dalla addirittura da una borsa di studio vinta e che ha portato all'ingresso di samuele andrettini nella cisle è proprio in questo settore e quindi c'è proprio una volontà di affrontare le problematiche perché poi in realtà quando si parla di vertenze si parla di problematiche assolutamente sì c'è sempre un problema che va risolto e in tanti casi questo il canale che maggiormente prevale è quello conciliativo chiaramente noi invitiamo in alcuni casi anche diffidiamo il datore di lavoro a ripristinare una corretta gestione del rapporto di lavoro e in questi casi naturalmente la risposta arriva in tante occasioni e in questi si mette in moto il meccanismo di confronto rispetto al quale ci si auspica che possa arrivare una soluzione bonaria e quindi anche una conciliazione in sede sindacale in sede protetta laddove questa situazione non si dovesse verificare noi comunque abbiamo a disposizione la collaborazione di avvocati privati convenzionati con la cisle esperti gius lavoristi che potranno portare avanti in sede giudiziale tutti quegli opportuni provvedimenti dai ricorsi per decreto ingiuttivo piuttosto che cause di lavoro per poter ottenere il ripristino del maltolto da parte del lavoratore. E chiaramente avvocati con i quali poi si lavora a stretto contatto tant'è vero che lei anche è laureato in giurisprudenza non a caso e quali sono le diciamo le tipologie più classiche di richieste quali sono le vergenze che più spesso vengono proprio incartate sui vostri tavoli? Allora noi praticamente quotidianamente per esempio controlliamo le buste paghe e questo chiaramente per verificare se l'effettiva prestazione del lavoratore sia correttamente retribuita quando questo non fosse chiaramente noi siamo anche in grado di elaborare quei conteggi che sono appositamente creati per definire e quantificare quelle differenze stesse che poi potrebbero tradursi in un'avvertenza e una rivendicazione salariale. Siamo molto impegnati appunto nel recupero crediti anzi quello che ci qualifica maggiormente e questo recupero crediti che può essere di semplice mancato i pagamenti di stipendi o di TFR differenze che possono derivare da tutta una serie di variabili di violazioni contrattuali ma è importante dire che noi questo recupero credito lo facciamo anche in tutte quelle situazioni di infruttuosa esecuzione o quando venga aperta una procedura concorsuale quando cioè il tribunale dichiari il fallimento della società piuttosto che una liquidazione giudiziale piuttosto che un concordato. In tutte queste situazioni noi seguiamo il lavoratore in tutti i passaggi e in tutte le fasi fino alla definitiva chiusura della procedura medesima che può durare anche anni rispetto alla quale cercheremo di non lasciare in tentato nessuna possibilità di recupero crediti anzi in pendenza di questa procedura noi attingiamo al fondo di garanzia dell'IMS che è proprio un istituto diciamo riposto della legge sì esatto per poter permettere quantomeno al lavoratore in pendenza di questa procedura di recuperare il TFR e una quota delle ultime tre mensilità. Altri interventi continuo eh? Sì sì. Quando posso e poi mi fermerà se mi dilungo troppo. Allora noi svolgiamo anche un'attività di informazione e su tutte quelle che sono le tutele i diritti delle tipologie contrattuali. Stiamo parlando di contratto a tempo indeterminato, determinato, di somministrazione, a chiamata o intermittente, paro subordinato, stagionali, di apprendistato. Sì. È in caso di dire ce ne avete di lavoro. Esatto. È molto importante che al momento dell'assunzione come in corso di rapporto per determinate criticità o alla fine del rapporto di lavoro perché comunque danno diritto a queste tipologie contrattuali possono anche dare diritto a trattamenti integrativi o a condizioni diciamo di tutela, sapere da parte del lavoratore quali sono appunto le opportunità, le tutele e le condizioni che danno diritto. Svolgiamo anche un'importante funzione di assistenza ai lavoratori per le dimissioni telematiche. Dal 2016 le dimissioni, salvo alcune deroghe, devono essere trasmesse tramite SPID ad un portale del Ministero del Lavoro per portare poi la trasmissione via PEC all'azienda. In questo caso noi siamo soggetti abilitati per, diciamo come dire, su delega del lavoratore fare questa trasmissione, però è molto importante che il lavoratore si affidi a noi per questo tipo di servizio perché comunque siamo in grado di dare tutta una serie di informazioni utili come per esempio del preavviso, oppure per esempio può succedere che al momento delle dimissioni volontarie possa emergere che quelle dimissioni in realtà non sono proprio volontarie, ma sono dovute per esempio a delle gravi inadempienze o comportamenti gravi del datore di lavoro e quindi come tali possono tradursi in dimissioni per giusta causa potendo così dare seguito a tutta una serie di tutele che in realtà le dimissioni volontarie non darebbero. Mi viene spontaneo pensare, i servizi sono tanti, considerate che la CISL è un'organizzazione regionale che poi è suddivisa nelle province con vari uffici, anche nella provincia di Pesaro Urbino, ma come si fa a fare richiesta di accesso a questi servizi? Come fa un lavoratore a pensare di dire, ok, ho qualcosa da rivendicare, dove vado? Allora, innanzitutto i nostri uffici di vertenze sono presenti nella nostra provincia di Pesaro Urbino in due sedi. Siamo presenti praticamente tutti i giorni, compreso il sabato mattina e questo lo abbiamo nelle sedi di Pesaro in via Portarimini, storica sede, e quella di Fanno che da pochi anni si è trasferita in via Nolfi 170. Chiaramente è possibile poi prenotare un appuntamento nei nostri uffici e questo lo si può fare o online accedendo al nostro sito web di CISL e Marche, qui naturalmente c'è la possibilità tra i vari servizi di scegliere quello che eroga la CISL. E bisogna essere per forza iscritti? Allora, noi assistiamo solamente gli iscritti, chiaramente chi viene da noi che è già iscritto chiaramente ha la porta aperta, chi invece chiaramente non lo è, noi naturalmente le informazioni è un momento di confronto e di consiglio, non lo vediamo a nessuno, però poi nel momento in cui interveniamo proprio perché lo assistiamo attraverso tutta una serie di elementi che devono essere necessariamente oggetto di rappresentanze, di mandato, di conferimento, di incarico specifico, prevedono comunque l'iscrizione alla nostra organizzazione sindacale. Naturalmente l'iscrizione avviene per federazioni di categoria perché chiaramente ogni settore di appartenenza ha un tipo di sigla sindacale a cui appartiene e quindi chiaramente potrebbe essere la metalmeccanica piuttosto che il commercio, piuttosto che le trasporti e via dicendo. La possibilità di pronotare l'appuntamento, come detto appunto accedendo a questo sito web, dovranno semplicemente concludo compilare un piccola scheda in modo tale da poi essere richiamati e capire anche l'urgenza e le condizioni che si presentano al momento dell'intervento. Però possiamo fare anche con i metodi tradizionali che abbiamo, quindi contattando i nostri centralini, che non sono solo quelli di Pesero e Fano perché nella provincia di Pesero e Fano abbiamo almeno 30 sedi, oppure proprio accedendo fisicamente a queste sedi dove troveranno dei bravi operatori dell'accoglienza che faranno da tramite e quindi agevoleranno il percorso per contattarci. Perfetto, direi che è stato chiarissimo Samuele, quindi siamo davvero stati informati di cose importanti perché non dimentichiamoci che il lavoro è alla base dell'esistenza quotidiana e il lavoro fatto bene fa vivere bene. Giusto? Sì, avevo ulteriori interventi da poter eventualmente rappresentarvi sotto l'aspetto appunto delle attività che facciamo e volevo, se non ho altro spazio, perché potremmo continuare con l'impugnazione dei licenziamenti, con l'assistenza delle procedure disciplinari per il danno differenziale di fronte a degli infortuni. Però quello che conta è che la nostra sarà di intervento è molto ampia e chiaramente le casistiche, gli abusi, le violazioni del mondo del lavoro sono infinite e quindi quando un lavoratore ha dei problemi o delle difficoltà si faccia avanti perché comunque noi una possibilità di supporto e di tutela la diamo sempre. Perfetto e questo è davvero molto importante perché appunto, lo dicevamo poco fa, il lavoro è fondamentale per tutti noi. Grazie, grazie Samuele Andreatini, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, continuate a restare sul canale 80 di Lozioni TV e ancora buona serata.